Benvenuti, buonasera a tutti, come sempre vi saluto, pronti ormai lo so che siete tutti in procinto di andare in vacanza, di andare nelle vostre località preferite, chi montagna, chi mare, chi invece come me rimane in città così a fare un po' la muffa al caldo. Sapete cos'è la cosa bella quando vanno tutti in vacanza? Io dico sempre agosto, in agosto Milano, è una roba pazzesca perché appunto quando non c'è nessuno si sta, si sta veramente veramente bene. Siete bravissimi, cioè devo dire che voi, hai capito, proprio bravi, molto bravi, bene, sono molto contento di questa cosa, comunque le ombre cinesi, ragazzi, si vede che mancano ormai pochi giorni, intanto grazie perché stanno mandando veramente tanto materiale. Veramente, grazie a tutti ragazzi, la partecipazione è stata veramente eccezionale. Esatto, cioè proprio, è partecipazione. Vai, bravi, perfetto, basta, grazie, ok, perfetto. Allora, volevo dire anche questa cosa, eh? Allora, ti ascolto in un minuto, finisce diciamo questa prima parte, edizione, quindi diciamo che è stata una bella prova, però intanto vi ringrazio e finisce mercoledì 31 perché poi diciamo che sullo streaming andremo un po' in vacanza fino a settembre, ci rivedremo in settembre, ma ripartirà chiaramente da settembre. Devo ringraziarvi perché comunque c'è la cosa bellissima, quello che sta accadendo, l'educazione rispetto riguardo a questa cosa. Poi c'è sempre quello che magari ha da dire, ha da risentirsi, ci sta, lo capisco benissimo, però cerco e ripeto, siccome non è un talent e non è un concorso, ma è un modo di farsi conoscere oltre che a farsi valutare in diretta, penso che sia la cosa più bella poter valutarvi in un minuto, dandovi anche appunto dei consigli, delle dritte, delle cose tecniche, valutazioni di tutto, tutto quello che posso fare, mettendo a disposizione chiaramente tutta la conoscenza, tutta una parte, tutta la conoscenza che ho, sì, non una parte, mettiamola tutta, ma sì, crepi la varizia, va bene ragazzi, allora ci siamo, gira la ruota, vai. Pronti col ditino eh, mi raccomando. Oh, così puoi rispondere a quella domanda, Clarissa P, mentre si collega a Clarissa P, mentre si collega Clarissa, io rispondo a questa domanda, Luca buonasera, secondo te esiste un punto di non ritorno per il mercato discografico italiano e non, intendo dire, il continuo guadagno sfruttamento di materie rare, veri talenti, in alcuni casi, non porterà ad un vero e proprio collasso, ma ti rispondo subito, Kizune, siamo già arrivati al collasso, quindi non è che siamo già nel punto di non ritorno se vogliamo vederla così. Questo cosa vuol dire? Che per me è un punto di non ritorno per tutto quello che è successo e per quelli che ci sono adesso. Si accorgeranno che le cose andranno male, piano piano, e quanto andranno male dipenderà anche dal fatto che bisognerà imparare a dire no, a non accettare sempre quello che si dice sempre a Milano, la merda al post del ciculato. Quindi cercare di volere il cioccolato perché è un diritto culturale e cercare chiaramente di battersi per questo. Non comprate più quello che vi viene proponato, tanto per farlo, se vi piace compratelo, se non vi piace non compratelo, non ascoltate che va di moda, non ascoltate semplicemente, questo me lo dico sempre perché la tv ultimamente sta diventando forviante purtroppo, perché chi vi consiglia le cose non è un reale esperto di quella cosa e quindi viene venduto come tale, ma andate un po' al di là dei soliti parametri che vedete in tv, andate dentro di voi c'è più verità di quella che vi viene detta sia in radio che in tv, dentro di voi c'è sempre la verità, aiuto, c'è sempre la verità, ascoltatevi, senti qua. Ok, la verità è dentro di voi. Clarissa. Buonasera. Buonasera Clarissa. Ma guarda che roba, dietro c'è tutto questo sassame che c'è dietro, di dove sei Clarissa P? Sono di Casa del Guidi, praticamente vicino Pistoia, in Toscana. Cosa fai nella vita? Allora, io nella vita faccio l'impiegata, sono laureata in lingue, però diciamo che la musica ha rappresentato per me sempre il cuore della mia vita, nel senso che ho sempre studiato canto da quando ho più o meno 13 anni, ho cambiato tante volte insegnanti, questo probabilmente mi ha un po' rallentata nell'apprendimento, perché appunto ho avuto difficoltà nell'affidarmi a una persona, comunque in quel momento lì ha la, per me è, diciamo, le mie corde vocali, la mia voce è un bene prezioso, quindi l'affidarsi a una persona deve essere veramente, diciamo, al 100% effettivo, nel senso io mi dono a te e tu devi essere in grado comunque anche di capire le esigenze e come lavorare insieme. E poi a 16 anni più o meno ho sentito l'esigenza, proprio il bisogno di scrivere canzoni, quindi ho iniziato un po' il mio percorso di cantautorato, a 18 ho preso un pianoforte, perché sentivo proprio l'esigenza di fare della musica, cioè di fare delle mie emozioni in musica, quindi ho iniziato un percorso, ho fatto un'accademia a Roma in cui ho studiato sia canto che staging, che produzione, arrangiamento, anche scrittura musicale. Tuttora sto facendo un percorso in un'accademia online in cui, diciamo, vado proprio a fondo nello studio della complessità della scrittura di una canzone e anche ovviamente a livello armonico, quindi cerco di studiare il più possibile quello che sono onorata io di essere qui stasera, anche ovviamente di fronte a te, Yurman, perché proprio ho bisogno di fare tesoro delle perle che mi darai, senz'altro. Perle non lo so, spero perle, ma il problema è che tu sai che sei onorata di essere qua, ti ringrazio dell'onore, però tu sai che poi io sono cattivo, non ho come da parte gli scherzi, dai, cerco di essere oggettivo il più possibile, ok? Senti, volevo farti una domanda perché me l'hai chiesta qui, hai fatto dei provini in qualche talent, qualcosa in giro? Allora, una volta sola ad Amifi, non sono passata a quella, diciamo, ho fatto due selezioni, mi pare, poi sono stata stoppata, insomma. Poi non ho fatto più altro, perché poi comunque anche in Accademia a Roma ho avuto a che fare con persone che lavoravano nei talent, mi hanno un po' parlato della realtà, del che succede, e proprio perché è stata una scelta personale a dare molta più importanza allo studio, a un percorso più concreto, per l'essere magari pronta un giorno, cioè io sinceramente ora sto facendo, sto costruendo le mie canzoni, ne ho tantissime, però voglio uscire quando sono proprio, ho le spalle coperte, ho le spalle grosse, nel senso ho un forte studio, un grande studio dietro. Bene, di questo ne sono contento perché bisogna far capire molto questo fondamento, ok? Poi lo spiegherò anche meglio dopo così non rubiamo tempo a te, però il discorso è proprio di prepararsi prima di esporsi, dovrebbe essere sempre la cosa più importante, invece oggi va di moda esporsi prima di prepararsi, pensando che basta che qualcuno, il parente o l'amico dici, ah ma c'è un talento, ah ma se questo o se quell'altro vai a provare lì, e invece poi succede il patatracca alla fine quando ci si scontra con la realtà una volta fuori da certi circuiti. Detto questo, cosa mi hai mandato da ascoltare? Allora io ho portato una cover, perché appunto le ineriti sono in costruzione, quindi non mi sentivo di portare ineriti, ho portato Tango di Tananai, è stata una scelta molto di pancia. Anche lì prima o poi vi spiegherò anche un po' in generale come scegliere le cover. Via allora, vai, andiamo, sentiamo un po'. Amore, tra le palazzine a fuoco, la tua voce riconosco, noi non siamo come loro, è bello, è bello, è bello stare così, davanti a te in ginocchio, sotto la scritta nel di un sexy show, se amarsi dura più di un giorno è meglio. Gli errorini non mi interessano, hai capito, del pianoforte, ho sentito delle cosine così, ma acciaccature, dita che scappano tra il diesis e il non diesis. Però, una domanda, tu vocalmente dove ti senti di voler andare? Perché questo è il primo bivio per cui ho ascoltato un suono, ok? E quel suono, il tuo suono che hai esposto, mi porta subito da una parte, non mi porta, hai capito, in un'altra direzione di cui adesso voglio parlare. Io mi sento molto medio alta. Perché quando parli tu è un suono, ok, che mentre canti non c'è, ok? È un suono leggermente, quello che si dice, preimpostato verso il canto lirico leggero, no? Ok, quindi è una cosa che ricorda molto un po' il musical, capito? Cioè, quindi, ho sentito chiaramente l'intonazione di base, la sento perché suoni un po' il pianoforte, quindi ovviamente accompagnandoti hai la possibilità, la possibilità di questo, è bellissimo per un cantante stare lì a suonare e cantare perché gli permette di correggere tantissimo, ok, l'intonazione. Il vibrato è un po' da regolare lì perché entra troppo spesso. E qualcuno, vedi, qui scrive un po' la Kate Bush, però Kate Bush è ancora un po' più acuta, medio alta, no? Però la mia domanda è tu, cioè quali sono i tuoi cantanti di riferimento? Quali sono i tuoi sogni vocali? Il mio sogno è Whitney Houston, però nel senso ho tanti riferimenti, anche la tecnica che ha Giorgia, non sa anche conoscere tutto al vivo in Accademia. Era qua che ti volevo, nel senso che ascoltandoti, ascoltando un po' due o tre passaggi, che si sente una che ha un'impostazione da musical, ma che vorrebbe fare delle cose moderne perché hai fatto due o tre passaggi, hai messo dentro un gruppettino di note, capito, abbastanza veloci, puoi farle molto meglio, ma non è il suono tuo naturale su cui stai lavorando. Stai attento a questo, quindi non vorrei che tu abbia lavorato molto in quello che si dice a risparmio di energia, perché ormai l'ultima corrente degli ultimi anni è quella di dire andiamo negli acuti senza farci male, no? Ma è come chiedere, dico sempre, a un corridore di andare a fare le Olimpiadi cercando di stare attento a come metti i piedi perché potrebbe stoltarsi una caviglia, capito, però lo freni già in partenza, quindi io ti sento nell'esposizione vocale molto frenata e molto girata nel suono. Questa è una tecnica abbastanza retro per quello che vuoi fare tu, è molto più verso il semilirico, per intenderci anche se non è lirico, molto di testa, molto di maschera, ma molto indietro, piuttosto che invece un suono aperto e spinto, perché tra l'altro poi anche... Cioè ci sono delle cose che mi fanno capire che volesti fare qualcosa, ma tecnicamente sei un po' fuoristrada, ok? Fammi una domanda tecnica perché ti ho fatto parlare un po' troppo prima e quindi adesso c'ho poco tempo per dire qualcosa, ma fammi una domanda a livello tecnico, cosa vuoi sapere di preciso? Cioè io lo sento comunque che vorrei avere maggior apertura in avanti, come dici te appunto, vorrei capire un po' come poter fare nel senso... Ovviamente tu sai, perché studi, che ci vuole tempo per ogni cosa. Aprire un timbro che è stato educato ad essere chiuso è tosta, perché vuol dire smontare totalmente la tua abitudine di ascoltarti, di provare, di studiare e quindi smontare quella proiezione verso le risonanze e andare a cercare invece quello che è proprio l'apertura del tratto vocale, far uscire il suono anche sporco, ok? Ma il più naturale e neutro possibile per poi andare a lavorare sulle risonanze. Qui hai strutturato tu o chi ti ha insegnato, avete strutturato un lavoro proprio, anche molto probabilmente nei vocalizzi in questa direzione, capito? Ti è stato detto qualche volta non fare così perché ti fai male? Cioè, più che altro sì, andando a risparmio, come dici te, nel senso questa maschera che ti fa andare a risparmio, sì. Eh, ma capite che è un errore gravissimo, cioè è come chiedere a Whitney Houston di non spingere, di non andare sugli acuti sparando, perché? Perché potrebbe essere un rischio, capito? Questo così è proprio, cioè non puoi andare là, perché così è cantare veramente senza fare sforzo. E questo qui è un errore grave che stanno facendo in molti docenti che stanno cercando un po' per moda, un po' perché non sanno più come girarsi a destra e a sinistra. E io trovo che stiano facendo un grave danno a tutti voi, capito? Perché invece di spingervi a aprire, a rischiare, a esagerare, anche capire, ok? Un buon insegnante ti porta sempre al limite, ma senza mai fare in modo che tu ti rovini, ok? Non puoi rovinarti se sei veramente controllata da un buon insegnante. Però lì c'è da partire da un punto, la respirazione come uso dello strumento, non la respirazione in quanto tale, perché tutti noi respiriamo senza, però c'è proprio da partire da zero e andare con una pressione sottoglottica diversa per aprire il suono. Così è troppo chiuso, è troppo arretrato. La prima cosa che ti posso dire è ricordati sempre che così ci ragioni tu, ok? Fai un ragionamento tu. Immagina sempre il tuo tratto vocale appunto come un tubo, no? Che vedi raffigurato un po' dappertutto, no? Il tratto vocale, quindi la bocca, un tubo che deve essere libero. Se con la lingua vado indietro per cercare di portare il suono in alto, la lingua cosa fa? Va a ostruire come mettere una spugna nel tubo di scarico. Da qualche parte deve uscire il suono e dove esce? Esce nelle risonanze, hai capito, di testa, le risonanze anteriori qualche volta. Qui si sente molto la parte superiore, addirittura verso la nuca più che in avanti. E questo è un problema serio, hai capito? Un problema serio per quello che tu, perché l'ho sentito, dico come, cioè vuoi fare due cose, però non hai la spinta, non hai l'apertura per poterlo fare. A volte anche il suono arioso, sporco, cioè se il tuo suono, mentre parli, sappi che non è quello che stai usando mentre canti. E questo non è un plus, capito? Nel canto moderno. Perché il canto lirico ha un modo di esistere. Ma se tu dovessi fare lirica, perché lo definisco un lirico leggero o pseudolirico? Perché tu, se vai su un palco di un teatro lirico e canti in questo modo, anche se sei proiettata verso un similirico, ma non ti sente nessuno. Cioè, capito? Non c'è forza, non c'è esposizione del suono. Quindi partiamo da lì, perché la musicalità ce l'hai e si sente. E anche il vibrato, si sente che è un vibrato che non è di intensità, non c'è forza, non c'è comunicativa, c'è, capite, tutto... Anche il vibrato, sì, lo muovi, ma è un vibrato di modulazione, non è un vibrato creato di, cosiddetto, di diaframma, di intensità. E ricordi che di vibrati ce ne sono almeno tre tipi. Hai capito? Quarto, se io comincio a fare... o cinque, se comincio a fare le varie combinazioni. Quindi, tecnicamente, io quello che ti posso dire è se quello che vuoi fare è quello che hai detto, cerca le persone adatte a quello che... a te. E soprattutto, basta, io lo dico a tutti, ma basta con questa storia, cioè del risparmio. Basta, perché si sta creando un problema serio. Capito? Ma un problema serio. Come suono, dici sempre di suonare, si piano, però attento, non spino a fare queste dinamiche forti, se no potresti farti male le dita. Cacchio, cioè passiamo una vita noi a fare forza sulle dita, sulla chitarra, o sulla batteria, hai capito perché no? però accarezzalo perché se no potrebbe infiammarsi il polso. Si infiammerà il polso, tra virgolette, anche facendolo, no? Cioè quante volte suonando, tu Matteo con la chitarra, quante volte i tendini ti si stancano, le mani, no? Ti fanno male. Ogni tanto si infiamma, ti riposi, poi si riparte. se no come dire, siccome poi si fanno i taglietti nel polpastrello, usiamo le corde di gommine, hai capito? Cioè questa è una roba, cioè da matti, hai capito? Ok? Trova qualcuno che ti faccia rischiare un po', a mettere la quinta o l'overdrive, come si diceva, e accelerare e spingere, capito? Perché adesso devi acquisire forza. Guarda Winnie Houston dal vivo, hai mai visto Winnie Houston dal vivo che si insiede, na na na, ma è capito? Sempre forte, capito? Ok? Sì, sì. Ciao Clarissa, grazie. Grazie mille. Grazie, ciao, 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 ciao. Allora ragazzi, Peter, devo fare questa cosa qua, perché questa cosa qua proprio ce l'ho qui, qui, qui. Cioè ogni volta devo sentire questa roba qui. Ragazzi che magari, o non, ragazzi, anche persone non più giovani, che questo maledetto terrore, questo maledetto terrore psicologico, e qui mi rivolgo a docenti, a pseudodocenti, a chi vuole insegnare canto e anche ai logopedisti, per favore, non frenate le vocalità per paura che si faccia male, insegnategli cazzo a correre e a non farsi male correndo, non camminando. Questi devono correre, devono andare alle Olimpiadi, mica devono fare una passeggiata serale prima di andare a dormire. cioè non c'è mai potenza, non vedo mai forza, non vedo mai energia. Questa è una roba tosta, non sempre, però insomma di base c'è questo, quindi poi magari vocalità che senti, i musicali senti tutte retrate, tutti antichi, ma la smettiamo di 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 rovinare, non voglio di rovinare, di limitare il talento, la smettiamo una volta per tutte. Grazie. Comunque Luca, ti volevo ricordare che abbiamo appena sentito un brano del figlio di Biagio Antonacci. C'è vero. C'è vero. Ricordiamo per la chanda. Salutiamo Gatto Panceli. Ciao Gatto. Scherziamo. Va bene, ok. Va bene, vai, andiamo. Carlotta Z, preparati intanto che rispondo a una cosa. Eccoci qua, Carlotta. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Luca. Ciao Carlotta, come stai? Bene, sono molto contenta di essere qui con voi questa sera, è un piacere. Sì, sicura, sembra comunque un tipo la presentazione, sono molto contenta di essere qui con voi questa sera. Frase. Vabbè, io ti dico sempre, quando si fa musica, quando si ascolta musica è sempre bello. Ah ecco, c'è la musica di me. Brava, senti, Carlotta, di dove sei? Di Mestre, Venezia, in provincia di Venezia. Ecco. Ho iniziato fin da bambina, ho iniziato quasi a otto anni a suonare la chitarra, infatti la chitarra è inizio, è stata sempre la mia vita. Bravissima. E dico sempre che la mia compagna di gioia e di dolore. E dopo di che, invece dopo qualche anno, io ero molto timida, invece dopo qualche anno ho iniziato anche a prendere lezioni di canto e dopo un paio d'anni ho iniziato subito a comporre, avevo 12-13 anni, ho iniziato a comporre la mia prima canzone. Prima in inglese, una volta scrivevo, sì, solo in inglese, la Duff è una cosa recente, infatti l'ho iniziato a comporre anche in italiano. E quindi così, poi vabbè, nel frattempo, crescendo, le prime esperienze le ho fatte in qualche contest, qualche concorso musicale, sia della mia zona che magari un po' fuori. E ho fatto anche, tutto diciamo, ho iniziato con Roxy Bar, da Red Ronny. Infatti poi, sono stata anche da lui al Barone Rosso, ho fatto un po' di cose che correbbe. E dopodiché, invece, vabbè, ho suonato in suono tuttora nei locali della mia zona, anche di fuori. E niente, infatti sono molto contenta che adesso, perché sarò presente nel coro di alcuni nuovi brani dell'album che uscirà in autunno di Gatto Pageli. Ah, di Gatto, penso a te. E tu, magna, magna. Gatto, ma Gatto, ma senti, ho detto Gatto, no, a parte gli scherzi perché io e Gatto siamo molto, molto amici. No, è che l'abbiamo appena nominato. L'abbiamo nominato. E poi arrivi, Gatto di Gatto. E allora è tutto. Poi vabbè, sono molto felice di questa cosa. Siamo molto, molto amici. Senti, va bene, quindi cosa hai spedito? Ho spedito un brano di Pino Daniele che si chiama Dubbino No e che è uno dei miei preferiti anche se in realtà io Pino lo amo follemente, insomma, ogni brano lo adoro e anche se non ho potuto viverlo, no, nel modo diretto, però ogni tempo l'ho imparato a scoprire e a conoscere e poi suonarlo, cantarlo, quindi... La conosco molto bene Dubbino No tra l'altro perché lo cantavo anche io dal vivo quindi tanti anni fa. Sì, è un bellissimo brano. Assolutamente sì. Vediamo, però siccome quel brano lì, guarda, io metto già, hai capito, vediamo l'attenzione, quel brano lì ha tre o quattro punti di tranelli tosti, e ho detto, specialmente sul lancio dell'inciso, vediamo nel lancio dell'inciso, intanto porto avanti questo, però va bene, tu sai che tu, hai detto, ah è bello stare qua con voi ma sei caduto nella tana del lupo, va bene? è vero, ok, comunque giustamente dicono, potete dire a Matteo di non fare gesti strani? Ho capito, ma io amo Pino Daniele che ci devo fare. Ah, ho capito, anche io amo Pino Daniele. Manifesto è come se dicessi guarda che io ci ho lavorato e risulti troppo di parte, hai capito? Ma tanto, sei tu che dai giudizi, mica io. che bastardo, vai, ascoltiamo, vai. Vai. Mai nessuno mi ha mai detto sonzo di te mai, mai nessuno è grande con te che metti i sogni dentro di me e lascia ad essere sempre come sei. Parte che ti sei messa nella hall perché ti piaceva il riverbero naturale delle scale per quello. Ma io ogni tanto mi metto sì, quello è un video che mi ha registratto l'anno scorso inverno e adesso sono bastati invece alla camera per la location che era un attimo più decorosa. Però sì, mi diverto, mi piace, quindi quel video l'ho voluto mandare perché lo vedevo molto anche spontaneo. Ok, però tieni presente che quando c'è così tanta eco secondo me devo andare nel dettaglio, faccio fatica a sentire quella che è l'aria del timbro e sento molta risonanza. Allora, due cose, attenzione perché quando parliamo di due punti, ok? Tu sai che io faccio sempre delle critiche che sono poi costruttive ma sono critiche. Quindi partiamo da questo. Il groove, non accelerare a volte dei brani se senti che hanno una velocità particolare perché da come l'hai suonato l'hai portato ad affrettarsi, no? questo brano. A velocizzarlo, ok. Velocizzarlo così quando ha bisogno invece di sentire capito? Se no viene fuori. Capito? Cambia proprio lo stile, no? Il mondo. Ok, certo. Un po' la Pino Danielismo lo perdi lì perché, capito, ci sono anche dei passaggi dove mai, mai quel gruppo non c'è. mai mai nessuna mi hai mai detto detto lì ci sono. Quando si canta Pino ci sono delle cose da stare molto attenti. Al di là delle bellissime melodie che ha scritto uno dei più grandi cantautori e che ha detto è passionali ma non d'Italia. Io lo metto sempre Pino, Dallas, sono persone che metto tra i migliori al mondo comunque perché rimangono per me dei grandi cantautori. Però lui arriva dal blues e dalla soul music. Ok? Quindi devi stare attenta a queste cose perché ho sentito sento che porti stai sul tempo ok che cosa mi manca mi mancano degli interventi quello che ha detto ami Pino Daniele ok prova a riprodurre tante volte le cose che fa lui poi le toglie o le metti capito? Ma riprodurla è importante perché imparare cosa sono i mordenti e imparare cosa sono le blue note nel cantato i gruppi di note che fanno parte delle pentatoniche cosiddette le scale pentatoniche che si usano in quel genere sono fondamentali ok perché è come togliere un po' l'anima di Pino nel brano allora se tu riesci a cantarlo avvicinandoti a quel tipo di anima la tua parte si avvicina molto di più anche al contesto della canzone capito? Certo perché è anche vero che appunto suonando cover è un modo giusto per studiare sempre di più nuovi modi di cantare di suonare quindi sono d'accordo poi sono anche delle idee che bisogna poi portarli alla propria personalità a saperli interpretare però è vero di base si studia attenzione attenzione a questo perché anche questo è stato forviato negli ultimi anni qua in Italia anche questa è una cosa molto di comodo dire bisogna portarli farli propri sì ma farli propri quando si è in grado di farli non è intendo dire attenzione che non voglio inferire voglio farti capire è proprio un errore quando parli e ci si propone a dei veri professionisti uno se io aspetto un'interpretazione su un brano di Pino mi aspetto un'interpretazione diversa magari da Pino ma dello stesso livello minimo o superiore capito? mai inferiore mai inferiore perché se voi vi proponete con un brano e lo cantate sotto al livello dell'originale il confronto arriva subito capito? e lì è facile dire ma io volevo farlo a modo mio questo non conviene mai dirlo perché farlo a modo tuo vuol dire che mi fai dimenticare Pino capito? ma dimenticarlo è durissima quindi quasi impossibile bravissima allora quando io faccio questo ragionamento quando io devo cercare tecnicamente di fare qualcosa di più qui hai tolto molto capito? e per me è importante quello che se tu togli a livello tecnico mordenti i vibrati giusti le scale cioè quindi le pentatoniche nel passaggio hai tolto capito? quindi attenzione perché tante volte cantare le cover vuol dire interpretare strumentalmente o vocalmente una canzone ma deve essere fatta in modo esemplare non è il karaoke non è la cover il karaoke è un gioco su cui chiunque si può cimentare un professionista che fa una cover deve dargli una lettura nuova oppure allo stesso livello magari creando qualcosa in più tecnicamente ecco ti consiglio di studiare se vuoi arrivare lì perché hai bisogno di conoscere bene intanto il linguaggio hai capito della soul music o del blues per intenderci ma soprattutto cominciare a conoscere tecnicamente come fare dei virtuosismi che hai tolto poi io ti ho sentita qui magari adesso dopo un anno hai fatto qualcosa in più sei giovane quanti anni hai 21 sei giovanissima quindi hai voglia sì poi io in realtà ho sempre fatto più cover insomma la mia musica ispiratrice è sempre stata ad esempio Johnny Mitchell quindi un mondo un po' diverso anche livello forse vocrale però fino alla musica canto non ti dimenticherei che anche Johnny Mitchell era molto aggressiva per certe cose però aveva anche lei un modo di fare delle cose velocissime non mi piaceva molto il vibrato di Johnny Mitchell ma faceva comunque delle belle frasi ok va bene grazie a te ciao Carlotta ciao 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 ecco vedete qui questa è una cosa un'altra cosa sempre che ripeto capisco che è difficile tante volte mettersi in in mostra cantando una cover pensando che sia una cosa che vabbè comunque la faccio a modo mio e e va bene tanto faccio sentire dovete sapere che quando lo fate in maniera cioè cercate di avere un riscontro professionale e riscontro professionale vi da dei punti che sono molto importanti in questo caso tecnicamente anche qui ci sono delle mancanze che vanno risolte ok proprio sono mancanze di mordenti acciacature passaggi che fanno parte chiaramente di un brano è come cantare che ne so come saprei o un brano dove c'è magari un passaggio adesso mi viene in mente però un passaggio particolare e toglierlo perché non lo riesco a fare e cavolo ma quella cosa lì diventa una mancanza non diventa più una roba che che siccome lo interpreto io ecco questa frase qua è l'unica frase che un po' in genere un po' combatto perché interpretare un brano magari cantato in cantato in originale in modo difficile e semplificarlo semplificarne la parte diciamo così difficile non è un interpretare ma è scappare un po' dalle difficoltà ok quindi invece bisogna prendere il toro per le corna come si dice star lì dentro studiare 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 dettagli passaggi dettagli passaggi fino a che ci si sente in grado di poterlo fare anche per capire le motivazioni musicali di quelle scelte esattamente brava perché quando lo studi diciamo il primo ascolto può essere anche non per forza di comprensione delle scelte ti puoi far vedere però dell'artista no mi piace così piace così questa storia della voce si fuori campo così ok però invece studiandolo più ci sei a contatto e più piano piano scopri le motivazioni proprio musicali interpretative di certe scelte di un virtuosismo perché di un timbro perché e poi alla fine allora a quel punto dopo aver scoperto tutto allora scegli cosa tenere e cosa togliere eventualmente esattamente quello che ha detto Chiara adesso cosa vuol dire tipo prendiamo dei classici in questo caso il presopino Daniele però prendiamo uno dei più grandi virtuosisti che può essere Edoardo de Crescenzo da questo punto di vista e gli togli quella roba che fa lui cioè se tu togli e fai l'infinità è una camera segreta in un motel sulla via che accarezza la tua vita insieme la vita mia where cambia tutto il brano perché il brano è già c'è quella tacco lì vibro scendo e poi c'è subito un gruppettino di note nascoste quindi l'infinità 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 è una camera segreta di un motel sulla via che attraversa la tua vita insieme tutte queste cose se gliele togli la vita mia mi sono andato leggero quasi di testa mi sono andato in falsetto senza andare in risonanza difficile farlo perché sei a rischio di spezzatura ma è così bello se faccio la vita mia e non la vita mia mi cambia la vita mia decidi tu cioè è tutto oppure se ripartire o rimanere ancora e poi taglio questi semitoni questa parte la tolgo e faccio ancora ora lo so ma lì c'è ora lo so ecco se tolgo tutta questa roba qui è meglio che non la canto non la canti cosa la canto a fare l'infinità se vado a togliere tutte le finezze tutti i dettagli tutti i colori di decrescenza o di voglio togliere vuol dire che ne metto degli altri sensati sensati degli altri sensati che abbiano un senso chiaramente da costruire sul brano sull'armonia sui passaggi ok via andiamo erica s erica s sera solo donne solo donne la serata solo donne giusto ciao erica erica scusa devo fare questa premessa un attimino perché è un problema erica s di dove sei la spezia la spezia scusa adesso ti sentirai oddio adesso sei incazzato adesso quando mi senti mi uccide no meglio meglio si è sfogato prima esatto mi sfoga adesso no perché tutti i giorni hai capito è così io vado vado così e quindi ecco perché ci sta io ho sempre cantato fin da piccolissimissimisti ma forse ho iniziato a cantare prima di parlare però mi vergognavo tantissimo a farlo in pubblico e fino ai 16-17 anni non ho mai aperto bocca davanti a nessuno poi a 16 anni mi sono trovata in Inghilterra a cantare a caso in un locale mi è piaciuto e ho detto vabbè proviamo a farlo in maniera più concreta ok e tornate in Italia però ho risponduto un problema alle corde vocali ah che però mi ha dato un là importante perché mi ha fatto iniziare a studiare oltre a seguire un percorso con il mio Torino e tutto per sistemare mi ha fatto iniziare a studiare 6-7 anni fa ho iniziato a studiare e poi è diventato in piccolo il mio lavoro bene cantare allora che problema hai avuto alle corde vocali se posso chiedertelo ho avuto dei noduli abbastanza banale facilmente risolvibile però io l'ho portato avanti per un po' e quindi la mia voce era abbastanza provata ok adesso però hai superato la paura dei noduli o ce l'hai ancora perché quello è l'unico io mi sento serena adesso dopo un bel po' adesso conosco non perfettamente ma abbastanza la mia voce mi sento sicura con la tecnica che studio ok e non ho paura di farmi male in quel senso ok va bene allora senti cosa hai mandato nel video I see red dei everybody loves an outlaw sti cavoli come si dice va bene mi piace molto la musicalità che hai nell'andare ad affrontare certi passaggi certi virtuosismi e l'idea che hai del vibrato non è male ma sento dei problemi proprio nella scelta in alcuni casi del timbro del suono ok molto mediosi per andare a cercare una sonorità che secondo me è più nella tua natura non devi andarla a cercare più cerchi una sonorità e quindi vai a falsare il tuo timbro naturale anche quando spingi e più troverai quel suono che va a schiacciare certe frequenze e quindi non tira fuori quelle che vengono erroneamente chiamate un po' le frequenze di petto quindi la profondità in certi generi musicali la profondità del timbro è fondamentale perché si deve andare a cercare proprio quella vibrazione quella risonanza non parlando di vibes ma proprio la vibrazione della risonanza della nota ok e quindi del suono che manca di che cosa manca di possibilità di vibrare questo è ostacolato anche un po' a te anche tu lo ostacoli un po' con la retrazione linguale quindi tecnicamente parlando la maggior parte un po' ovviamente quando uno arriva dai noduli ha un po' come dire chiaramente visto quello che ha dovuto sopportare ok per mettersi un po' a posto arriva un po' da quelle paure lì capito e a me piacerebbe tante volte che le persone come te che hanno questo tipo di musicalità non andassero a cercare di modificare troppo il timbro personale perché perché a volte facciamo commettiamo l'errore di andare ad imitare qualcuno durante il nostro periodo di studio periodo di ricerca ascoltiamo molto andiamo ad imitare qualcuno e magari non ci rendiamo conto che di base quello che noi abbiamo a livello timbrico potrebbe essere molto ma molto più interessante e soprattutto molto più adatto a noi ok quindi imitare la vocalità benissimo imitare il timbro a livello didattico molto importante perché ci fa capire che noi siamo esseri politimbrici quindi noi come gli imitatori come fanno gli imitatori ad imitare vari personaggi no varie voci non è che hanno dentro la testa 800 laringi hai capito ne hanno una ma spostando un po' gli organi ma soprattutto l'organo principale che cambia questi suoni di base il timbro che è la lingua e il palato molle la posizione della lingua e il palato molle già lì cambiano molte cose cambiano i timbro ecco io ho notato questa cosa hai usato anche un vibrato abbastanza largo nel punto giusto poi ti sei persa e ripeto ho sentito proprio questa marcatura timbrica ripeto c'è andare a cercare troppo quella quella forza nasale che invece ritroverei respirando bene la respirazione non è a posto eh io ho delle è una cosa che so è una cosa su cui lavoro tanto perché ho proprio delle difficoltà anche in generale nella vita respirare io quindi è una cosa su cui lavoro tanto ma è un problema asmatico sì ok perché sei sentito proprio in due punti proprio l'ho individuato capito però se non me lo dici tu e non dico mai non faccio mai questa domanda perché è molto è molto personale anche perché poi l'asma ha mille mille motivi di esistere ok quindi c'è molte molte parti sono emotive quindi che hanno a che fare poi con la trasformazione dell'approccio alla respirazione capito il mio è banalmente allergico in realtà però è presente sempre ok allora se è presente sempre capito però anche queste cose adesso non voglio adentrarmi si risolvono ok normalmente non solo convivendo ma imparando ad usare anche una respirazione che ti porta proprio perché sei asmatica dovresti fare delle scelte importanti per lo studio della respirazione ok qualcosa che va a calmarti va a posizionare le parti del corpo attra alla respirazione quindi il naso la lingua la gola attraverso un rallentamento del battito cardiaco proprio pensato quindi ragionato cercando un rilassamento in maniera che si liberi il tratto vocale per farti respirare correttamente ok però ecco se posso darti un aiuto comincia a mettere in pratica uno dei primi suggerimenti che do sempre quando si studiano le canzoni si respira appena si finisce una frase non prima di iniziare l'altra cosa vuol dire oh baby tutti fanno now invece oh baby qui respiro now ho tutto il tempo lì qui ho talmente tanto tempo in quello spazio di respirare che mi devo calmare calmati appena è finita la frase musicale calmati ferma concentrati calma ascolta il tempo intanto respira e affronta la frase successiva se il brano è veloce provalo creandoti tu prima gli spazi di respiro lentamente e pian piano li diminuisci laddove c'è il tempo tra l'introduzione una frase musicale qualcosa tu devi fare un training fortissimo autogeno ti devi calmare subito non c'è bisogno che ti ti gasi ti gasi il momento in cui lo stai facendo ma in mezzo trattieni perché l'asma tende a chiudere l'asma tende tende proprio a chiudere capito normalmente cioè se io sento la maggior parte di quelli che cantano malissimo oggi ma proprio cantano male perché respirano proprio che poi questa roba qui vanno a spiegare ai ragazzi di vent'anni che più fanno così e più vanno a inspirare raffreddando asciugando l'epitelio quindi il rivestimento delle corde vocali più vanno a rischio di battimento per creare i propri noduli vanno a spiegare sempre capito ma il mio maestro mi ha detto così il maestro mi ha detto così quindi attenzione a questo e poi studi qualche strumento no mi dispiace in realtà perché dovrei è una vita che lo dico ho provato negli anni te l'ho fatta questa domanda perché si sente facendo quel genere lì guardate che chi canta blues soul r&b jazz soprattutto poi jazz cioè la conoscenza almeno base di uno strumento ad accordatura fissa come il pianoforte ce l'hanno tutti tutti è che in America faccio un esempio studiare pianoforte per loro non è studiare quello che imparano normalmente a casa perché lo imparano con la mamma con la zia col papà col nonno quindi per loro fare che ne so fare anche le varie variazioni loro lo fanno a casa perché già in Inghilterra la vecchia Inghilterra insegnava la mamma la mamma insegnava il pianoforte alla figlia la figlia la insegnava all'altra figlia e via dicendo capito quindi c'è ciao Erika ciao grazie grazie a te ciao ciao mamma mia comunque ho visto proprio mi bisogna si può cambiare il suono a me piace a me piace tantissimo si riconcilia pensami nervosisce pensa a te Simona S Simona S solo donne si solo donne cosa vuol dire vuol dire che tu già sei nervosa ma ci sarà un motivo e ma ci sarà un motivo buonasera ah ok in auricolare guarda che bello Simona Silvestro eh sì esatto di dove sei sono di origine siciliana minchia di dove di Trapani bellissimo riminchia proprio Trapani Trapani bella Trapani Trapani però è bella bellissima molto bella sottovalutata io abito a Chamonimomblo sono su Monte Bianco cioè sono passato dal mare uno dei posti che preferisco in assoluto io sono sono un adoratore della montagna sono un montagnino quindi c'è scio tutti gli inverni e sono venuto qualche volta a fare la traversata vent'anni fa proprio e si parte da Chamonix eh sì eh sì bello l'hai fatta tu? sì 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 da Vallecroche che figata di la verità che esperienza sì è bellissimo perché vivendo qua cioè ci rendiamo conto poi avendo lo ski pass che ti permette di farlo quando vuoi esatto cioè tu in pausa prendi l'anzo se vuoi vai su va bene ma perché voi l'avete gratuito lo ski pass no no lo paghiamo però abbiamo un prezzo un prezzaccio è un prezzaccio sì senti la musica quindi dimmi la musica io assolutamente non ho assolutamente nessuna diciamo intenzione professionale sono professoressa di italiano alla scuola media qui in Francia però mi piace tanto canto più o meno da una decina d'anni allora perché sei venuta qui se non ti interessa del canto no no però devo dire che sì sì mi interessa migliorare io sono profezionista mi interessa comunque migliorare e devo dire che comunque faccio qualche concerto ogni tanto anche per arrotondare cioè diciamo se riesco allora diciamo che un po' la musica è che non c'entra niente sembrava che dice no certo è una mia grande passione però rispetto alle persone che sono passate prima accademie non so studio di strumenti eccetera eccetera no non è il mio caso però sono molto felice di poter avere consigli da persone competenti perché diciamo che non sono moltissime secondo me quindi se posso migliorare prendo 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 tutte le critiche costruttive vai rido rido perché ho ascoltato delle cose mi fa impazzire sta cosa che dico cioè il massacro comincia no ma attenzione è perché è come dire si sente che stai sul tempo hai capito che sei intonata che hai fatto anche hai cercato quei gruppettini il vibratino c'è chi di mettere quindi mi viene da dire ma il respiro no però cioè respiro così no cioè non c'è e come stai respirando non ti dà la possibilità di creare delle dinamiche benché senta l'intonazione benché senta il ritmo benché senta hai capito che tenti di mettere un vibrato in grazia di Dio c'è il problema che partendo da una respirazione così appena appena prendo un giusto un po' di respiro accennato in quel modo non avrò mai la possibilità di creare delle differenze dinamiche delle forze se è andato su come dire poca roba invece di mettere tanta roba capito cioè quindi come faccio lì e come ho detto prima bisogna studiare prima di tutto bene la respirazione o ragazzi diffidate come ho capito cioè diffidate da maestri che non partono insegnandovi prima di tutto e correggendovi prima di tutto la respirazione capito quindi non si possono affrontare brani non si possono affrontare è come fare in pianoforte ti metti subito a fare delle canzoncine senza neanche fare il minimo della diteggiatura il minimo della tecnica è sbagliatissimo capito quindi ci sono dei come dire sento tutto impacchettato come dire ecco ecco questo è un punto di partenza per dire ok proviamo a studiare capito proviamo a studiare quindi c'è da lì si parte hai capito cominciamo a vedere la respirazione ok benissimo ok ho sentito sento nata va bene ok azzeriamo tutto cominciamo a studiare partiamo la respirazione vediamo bene come si affronta la fonazione cioè ci sono molte cose da dire tecnicamente come farti una sorta di di analisi su qualcosa che di base si capisco è troppo bancale esatto fammi una domanda tu magari tecnica e poi te ne faccio un'altra io vai no no ma penso che già il fatto della respirazione mi basta avanza ce ne ho per un per un po' di tempo io quello che posso dire è che comunque non come dire quando quando canto purtroppo o che mi sono abituata ma non non ho questa impressione cioè faccio più o meno quello che voglio fare cioè non non sento che che cerco di fare una cosa e non riesco però forse come dici tu se respirassi meglio mi sarebbe fuori questo è assoluto guarda che tu sei così stai limitando le dinamiche moltissimo quindi cioè quando ti dovresti spingere anche negli acuti ma non hai la forza fisica per poterlo fare che non è una forza fisica data dalla struttura ma è come se tu devi andare a prendere una cosa due metri e quaranta e non salti per andarla a prendere capito allunghi la mano la sfiori ma non la prendi devi abbassarti e spingere no lì capito quindi studierò nel senso prenderò questo consiglio cercherò davvero di interiorizzarlo di concentrarmi su questo aspetto e sicuramente migliorerò però guardi non dire no non dire no cioè studia esatto cioè studia perché potrebbe invece aiutarti e renderti anche più libera da quel punto di vista non aver paura di affrontare lo studio soprattutto non aver paura di affrontare le tue cose non voglio andare oltre va bene ciao 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 benissimo andiamo avanti giusto giriamo la ruota abbiamo tolto no ma allora questo ruotista questa sera ma questo ruotista si distrae però lì si distrae il ruotista si distrae sai cos'è si frizza si frizza c'ha degli attimi di ragazzi stiamo vedendo praticamente che c'è una una voglia di vacanza cioè la voglia di vacanza è insita in te si vede no non si vede perché non ti si vede in faccia ma si percepisce si perché ogni tanto è come se c'è un'energia come se hai capito c'è un'energia dai forza su giriamo vai su su osti su Allegger dai che non si può dire su Allegger non si può dire la continuazione milanese vai Michele I Michele I quindi sto facendo le cagate perché io Michele L stavo dicendo Michele I Michele I vai col bottone Michele I Michele I schiaccialo bene vai 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 Michele ci sono dietro delle fotografie tue di quando eri piccolo piccolo sì un po' un po' con quella calla lì ma è una calla giusto cos'è che è un fiore sono le foto della prima comunione però io sono quello più cicciotto qua ah non quello col fiore in mano no tu sei quell'altro quello che ho detto no no volevo essere quello col fiore in mano senti chi è l'altro Michele chi è l'altro mio fratello mio fratello più piccolo ha tuo fratello più piccolo però ho detto no senti senti Michele di dove sei già mi devi dire voglio divertire io sono di Matera no la città dell'arte la città la città la cultura esatto la città della cos'è Bruzzo di Matera Basilicato scusate l'ignoranza ragazzi io mi confondo sempre voi dovete sapere che io faccio cioè ho girato in lungo e in largo ma io faccio mentalmente difficoltà a posizionare la Basilicata nel punto giusto ma perché mi sa che tu hai avuto lo stesso problema mio che quando ho fatto le elementari la maestra di geografia non c'era non c'era no 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 invece la mia cera mi rompeva anche i maroni però io hai capito come Basilicata costo coste hai capito perché c'è un un amico attore hai capito Michele sì quanti anni hai 32 appena compiuti cioè meno di un mese fa complimenti non sembra cosa mangi di Matera per essere così no non lo so non lo dico no spesso che mangi sono fortunato mi fa piacere ecco ringrazio per il complimento che cosa mangi scusami fammi capire cosa mangiate lì a Matera è un sacco di cose buone no qui si mangia molto bene se qua ti vuoi abbuffare hai l'imbarazzo della scelta cioè ormai il centro è pieno di locali in cui si mangia ma guarda Matera a parte che veramente devo venire comunque a Matera ragazzi intanto perché veramente l'ho vista l'ho vista pensa io ho visto le città ma non mi ricordo neanche dove stanno le città le ho viste tutte è proprio bello posso dare del tu le posso dare perché certo che mi devi dare del tu vai non ci sei mai stato a Matera sì sì ci sono stato a Matera certo è stata una delle più belle è una delle più belle per quanto mi riguarda è una città bellissima una delle città più belle d'Italia capito proprio perché mi piace tantissimo senti allora e la musica con te cosa c'entra spiegami allora io vabbè io sono uno studente di medicina però ho sempre studiato cioè sono dieci anni che studio canto in una scuola privata però di Altamura cioè sono di Matera ma studio ad Altamura vabbè il pane il pane di Altamura il pane di Altamura scusa mi sono distratto vai sì infatti c'è il conflitto eh certo il pane di Matera quello di Altamura ok quindi vai lì ad Altamura a studiare di cui però i primi due anni sono stati non proprio costanti perché la mia insegnante ha avuto vabbè dei suoi problemi tra l'altro lei mi diceva di aver studiato con te ma quando aveva vent'anni cioè lei ora ha quarant'anni quando ha avuto vent'anni ha studiato un paio d'anni a Milano ha preso ha fatto delle lezioni ehm con te vabbè perché studiava anche in un'accademia lì e quindi non so vabbè a titolo informativo comunque può essere però se non so il nome se non mi dici il nome non posso saperlo hai capito cioè no non so se posso dire il nome eh non so lo so ce lo voglio dire no vabbè no è nel dubbio è ricercata dalla polizia no no che ne so ce lo scrivi in privato così facciamo prima dai ok vai praticamente sono 4-5 anni che lo pratico un po' più sai mi faccio delle serate in acustico nella mia zona nei locali oppure qualche spettacolo organizzato qui ci sono un po' di associazioni che organizzano robe musicali un po' più serie diciamo tra virgolette quindi canto a me piace comunque quando devo chiaramente per lo studio che faccio non mi posso dedicare al canto ma intendo come canto intendo proprio eventi cioè proprio come lavoro non mi ci posso dedicare tantissimo però mi dedico molto allo studio poi a me piace molto cioè a me piace che quando devo cantare anche se è in poche occasioni devo cantare bene cioè a me piace proprio avere un bel suono infatti mi piacciono comunque tutti i cantanti diciamo che i miei tre cantanti proprio preferiti cioè per per far capire più o meno quello che voglio dire sono Beyoncé, Georgia e Steve Wonder ok quindi diciamo sono dei riferimenti così inarrivabili che mi permettono quindi sempre di cioè visto che non si arriva mai là penso sia una cosa positiva ok a me però mi piacciono sì oltre per il fatto che siano cantanti virtuosi mi piace proprio perché mi piace ascoltare le voci che hanno un bel suono sì mi piace proprio il suono della voce che hanno tondo con questi vibrati messi nei punti giusti le dinamiche che hanno e quindi diciamo che io cerco di lavorare in quella direzione di avere una voce aperta troppo onda insomma con un con un suono che sia bello da sentire ecco ok quindi ho sempre cercato di curare quello l'agilità anche di più negli ultimi anni e quindi e poi quest'anno mi è capitato di con una borsa di studio mi è capitato di frequentare il chat di Mogol e niente questo è questo è quello che mi riguarda a me con con la musica tra l'altro mi fa proprio strano essere qui con te perché io ero fissatissimo con amici quando c'eri tu no? e quindi praticamente io ero fissatissimo con la voce di Valerio Scano per intenderci cioè è stato proprio quello che mi ha spronato a studiare perché a me piacevano tutti questi cantanti però li trovavo un po' sai dicevo ma sono inarrivabili quando ho visto Valerio ho detto beh allora si può cantare così se si viene seguiti in un certo modo quindi cioè è proprio è stato proprio un mio riferimento di voce per tanti anni ma in realtà lo seguo ancora adesso e che fa meno roba magari nei stream e quindi però lo seguo ancora adesso con molto piacere ok quindi niente questo è quanto bene ascoltiamo cosa mi hai portato quindi da sentire allora io ho fatto un po' un azzardo ci piace ci piace bravo bravo io ti ho portato un minuto di cambiare di Alex Baroni ah proprio tu vuoi suicidare cioè ma per due motivi fondamentali ok forse tre vabbè uno perché diciamo mi pareva comunque di esprimere quello che penso di saper fare e poi due perché comunque essendoci tu che voglio dire sei proprio maestro del genere ma sei stato poi tra l'altro anche suo maestro quindi ho detto beh perché non approfittare di questa cosa per avere diciamo tutti gli accorgimenti per cantare bene quella roba ti do ti do vuoi dire qualcosa no ok ti do una piccola tu fai conto che cambiare Alex l'ha fatta che aveva 31 32 anni non mi ricordo più comunque grazie al fatto che Carlo Conti non c'era e qualcuno poteva poteva permettere che certi cantanti andassero a Sanremo perché Alex non aveva sicuramente come nuove proposte perché tra l'altro non con cambiare andrò con ce la farò la prima volta capito che prova 30 anni anzi 31 quindi però Alex è andato lì dopo 11 anni di scuola con me hai capito non un giorno 11 anni non mancava nemmeno è un brano che ho iniziato a studiare molto dopo e tu fai conto che dopo 11 anni io l'unica cosa che dico sempre non gli ho mai detto bravo l'ho scritto capito lo so ma infatti lo so che ho fatto un suicidio però ci sono mando qualcosa cioè mandare altro secondo me hai fatto bene hai fatto bene vai questo è giusto è giusto perché è proprio questo spirito quello che ci vuole bravo io penso che lui avesse proprio anche al di là della vocalità dell'estensione tutti i passaggi eccetera eccetera proprio un groove si studia proprio abbastanza innato era proprio bravo sul tempo io gli invidio tanto a quello è diventato bravo come possono diventare tanti altri bravi sul tempo perché ci sono dei segreti di studio per il groove ma che vanno portati avanti per tanto tempo quello esatto tanto tanto è una delle mie carenze ok allora andiamo a sentire un po' vai l'amore che non può volare restere qui fino alla fine di me l'amore mi dovrà passare per diventare libero cambiare ho sentito su perché si sente subito una determinata cosa in chi vuol cantare queste cose ok e quindi sono proprio certi certi passaggi certi certe acciaccature certi movimenti ok vocali il vibrato è molto lento ed è molto pesante ci sono due cose che vorrei dirti intanto non sai ma è un bellissimo strumento che stai usando scusa te lo dico abbastanza male però è un bellissimo strumento e sei un tenore pieno quindi non sei un tenore non sei un tenore a mettere sei un tenore pieno ok quindi questo proprio l'ho sentito su due punti ho detto cazzo proprio il senore pieno stai attento perché tendi a schiacciare il suono nelle parti medio basse e nei punti di passaggio che invece dovresti proprio evitare in quel modo lì perché prendere quel do naturale come l'hai preso così da perdona se te lo dico hai capito magari mi perdoneranno anche i tuoi insegnanti e quant'altro da incosciente non incosciente perché ti sei buttato incosciente perché sento che non sai esattamente come appoggiarsi con molta più libertà su quel do lì ok io l'ho pensato a coperto per avere un suono più rotondo che invece è questa cosa qua che non va fatta ti devono insegnare a cantare a tratto vocale aperto che è la cosa più difficile perché le frequenze non devi andare a ricercare in copertura ma quelle frequenze si cercano con una ginnastica di rafforzamento del tono muscolare della corda vocale è come andare in palestra ok e tutti i giorni fare un esercizio rompere e rimettere rompere e rimettere rompere e rimettere rompere e rimettere finché le corde si inspessiscono nel momento adduttorio in modo corretto senza andare a costringere senza andare a ricercare coperture o risonanze perché quel do tu ce l'avresti pieno naturale ma questo è un altro discorso questa è l'estensione attenzione perché muore quando vai a cercare quel vibrato è un vibrato misto tra la modulazione e l'intensità ma è molto pesante perché quella cosa lì accade proprio perché c'è un lavoro di contropressione superiore confronto alla pressione inferiore sotto cioè hai più hai più forza adduttoria di quanto stai gestendo realmente il fiato quindi cosa vuol dire che adduci molto tieni la lingua retratta il suono non rimane scarico da quella contrazione lì hai capito quindi rimane coperto non devi alleggerire sopra e rafforzare sotto capito gli addominali la velocità attenzione che è quello che cerchi cioè se tu pensi a Avery Wilson pensi un po' a questi cantanti li ascolti ogni tanto Brian McKnight sì Brian McKnight sì sì ok quando vai lì su esatto Luther quando va sul do diesis il do diesis di Luther Vandross cioè uno non ci fa caso che sta facendo un do diesis ok quindi è come te e tu hai quella possibilità lì perché tu sei andato su un do senza far sentire che stavi andando su un do attenzione quindi non era non era un effetto di forzato quello che stai dicendo no non era un effetto di forzato ma era un effetto di copertura che vado a togliere il potenziale del timbro vocale cioè vai a rovinare il tuo timbro hai capito quando tu invece potresti a proposito di questo proprio chiederti un parere su questa cosa qui fino a due tre anni fa io cantavo in maniera cioè nel senso tendevo a cantare più proprio a tratto vocale aperto con le vocali proprio più più aperte verso la A meno coperta attenzione alle vocali aperte e il suono coperto che sono qualcosa che non sono proprio corrette non sono la stessa cosa ok ok però diciamo che mi sono imbattuto vabbè forse in dei commenti anche profani di cui poi ho fatto bibbia in maniera errata in dei commenti tipo ma così ti fai male è troppo aperto è troppo sguaiato e quindi ho iniziato a coprire il suono per pensare la maledizione scusa perché porca macca che nervoso lei però mi ha detto guarda diciamo che stilisticamente è più corretto avere un suono più aperto in questo caso però lei mi diceva se tu ti piace più così c'è il suono comunque è buono puoi cantare anche così quindi è un problema che mi sono creato io negli anni perché l'emissione di entrambi era corretta a destra lei guarda allora Alex quando è andato su ragazzi per fare tu l'hai attenuato hai capito non l'hai fatto di forza quella roba lì hai capito invece per restare per restare qui anche sul finale cambiare quella parte dove c'è il do il si e il do quel punto lì è di forza cazzo di fibra ma dicevo palestra due chili ok tre chili quattro chili quando arrivo a 50 chili il movimento è lento giusto se io tolgo quei 50 chili dopo che ho fatto sono arrivati 50 chili prendo di nuovi due chili cioè ma li muovo così è capito lo che voglio dire li muovo velocissimo quindi devo andare a potenziare velocizzare in potenza e velocizzare in leggerezza potenziare velocizzare in potenza e velocizzare in leggerezza e devo fare quel lavoro lì ma ci sono anche degli esercizi tecnici che ti portano in salita in discesa a cercare i riff and runs ma quei riff and runs con quella roba lì non li fai hai capito in quel modo non li fai ok grazie mi ha fatto molto piace anche a me ciao 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 madonna ragazzi che nervoso vai sì ti arrotiamo scusate ma mi viene un nervoso ma un nervoso mi viene proprio la milanese quel nervoso lì capito che mi porca vacca Massimiliano P Massimiliano P per un pelo Massimiliano P Massimiliano forza Massimiliano Max dove sei Massimiliano sei arrivato dove sei eccolo ogni volta che c'è il gira la ruota arriva la pubblicità infatti prima ho avvisato avvisatemi quando mi chiamano perché sa proprio che succede ah perché c'è la pubblicità ah già perché è vero non sono abbonato ah ok perché chi non è abbonato male 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 va bene senti Massimiliano di dove sei Mastro guarda che roba tutta figa tutto scuro dietro tipo cinematografico un po' un set quasi ma perché sono praticamente nello schiappuzzino della pasticcera di mio padre e quindi non c'è tanto da venire dietro un disastro minchia nella pasticceria tuo padre ha una pasticceria io sono di Vittorio Veneto e mio padre si ha una pasticceria qui di stampo torinese sei rovinato praticamente di stampo torinese sei rovinato cioccolato tutto come fai resisti tu magari c'è anche la nausea lo schifo quando ce l'hai tutti i giorni a portata di mano si scende anche la voglia non è più un qualcosa di proibito che dici ti viene il langorino eh sì immagino immagino senti allora giovane quanti anni hai? io 23 che bello figo biondo lì tutto un po' città grazie lui può andare a Sanremo? lui può andare a Sanremo sei giovanissimo quindi che cazzo devo svegliarmi però ha il senso ti devi dare una mossa ti dare una mossa perché se vai avanti così con conti sai che qui devi correre devi fare i conti con conti ma io infatti già vedo le rughe guarda le prime rughe esatto qualcuno dice assomiglia un po' a Baglioni insomma senti la musica con te spiega spiega eh oddio dove si parte diciamo che cioè mio padre è sempre stato appassionato di canta odorato quindi ho avuto quel filone mia madre invece era più sui Pink Floyd di purple quindi classic rock e diciamo che pian piano ho preso una via di mezzo cioè sono particolarmente appassionato di alternative rock tutto ciò che era molto popolare in mezzo agli anni 2000 tipo tipo Bon Jovi tipo Brian Adams che ne so anche Bon Jovi ma anche roba un po' più recente non so Alter Bridge Green Day ah ok 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 quindi sei molto sei un rocker praticamente un new rocker come ti definisci? cerco di non definirmi però diciamo che cioè nel senso io ho un gruppo e ci definiamo alternative rock perché per forza bisogna farlo quando bisogna fare le serate bisogna far capire al pubblico più o meno cosa fai però lo usiamo anche perché nell'alternative rock c'è c'è di mezzo di tutto ci sono le ballate con due accordi in acustico tranquillissime e invece ci sono le schitarrate quasi sul metal quindi cioè siamo un po' liberi di navigare dove vogliamo con questa etichetta ok studi o non studi? ho tentato di studiare ma non ci sei riuscito è bellissimo è bellissimo ho tentato di studiare ma non ci sono riuscito come diceva c'hai detto prima a tutti quanti il problema del rischio della gente ti dice attento ti fai male e ho avuto molta difficoltà a trovare un insegnante che fosse diciamo di stampo rock e beh ci credo hanno fatto un lavoro eccezionale nel ripulirmi perché tendevo a grattare la voce per forza per andare alto e su quello hanno avuto successo ma non mi hanno mai insegnato ad andare alto graffiando in modo sicuro quindi tuttora io non so bene se sto usando una tecnica che sia del tutto salutare ok allora tieni presente appunto che nel rock io ci ho lavorato e ci ho giocato molto nel passato perché perché chiaramente ha una matrice un po' anche ha una matrice blues no il rock in un certo senso quindi specialmente nel rock blues sono andato molto in quella direzione tu fai conto che sono uno che per ridere nel passato ho lavorato anche come aiuto diciamo così nei confronti di alcuni cantanti di rock ma rock anche pesante ok quindi conosco molto bene il genere mi è sempre piaciuto giocarci quelle tecniche sono molto difficili da imparare all'inizio ok ma poi diventano veramente facili per chi entra in quel mood lì ok ti limita forse da un punto di vista veramente virtuoso perché andare su certi certi suoni ti limita un po' andare nel virtuosismo puro che magari sulla chitarra è un virtuosismo che invece nella voce difficilmente nel rock riesce ad avere perché hai bisogno di una certa potenza di note alte ma senza andare mai appunto come dici tu a rovinarti ma un conto è andare cercare di capire qual è il modo per non rovinarsi ma andare di potenza un conto è farti dirti o farti venire il timore che se vai di potenza ti rovini hai capito esatto la critica che mi è sempre stata fatta è questa come detto prima non rischiare di fare male si dipende nel senso quanto e come esatto esatto perché anche quello lo richiede lo spirito poi del rock lo richiede proprio quindi capito se tu vai a togliere quella roba lì come fai hai capito cioè gli togli quel mood quel sound che è tipico hai capito di quel mondo c'è bisogno di quell'urlo disperato bisogna saper imparare ad urlare nel modo hai capito che diventa più melodico musicale più che un urlo di disperazione tra virgolette un urlo di rabbia un urlo di come posso dire di di forza di pensiero comunque cosa mi hai mandato da sentire io ti ho mandato un brano di Michael Jackson Dirty Diana che è un po' un rischio perché è un brano ovviamente molto difficile ma proprio perché ho detto ok ho l'occasione di confrontarmi con un professionista gli mando qualcosa su cui sono sicuro che mi riempirà di critiche che sarebbe stato comodo se mi sono mandato qualcosa di medio comunque mi diceva bene sì quella cosa di dettagli no ho voluto mandare una cosa la spariamo vediamo cosa mi dice sì perché alla fine devo migliorare in ciò che non so fare ancora perfettamente quindi sei libero di essere cattivo sparmai quello che vuoi grande bravo rock dentro allora sei un soggetto molto interessante comunque volevo solo dire che quel sospiro che avessi intanto all'inizio era per mettermi nell'interpretazione era perché era tipo la terza take perché non riuscivo a salvare il video per una ora piena e quindi eravamo solo prima di dire spero che questa sia l'ultima infatti volevo chiederti cosa ti stavi cacando sotto non ce la facevi più e se ti vuoi dire ma che pare speriamo di farcela però allora sei un soggetto molto interessante perché hai un un timbro attenzione che butti via perché nel momento in cui tu hai spinto su rediesis e lì siamo in alto ok che è una tonalità che si sente che stai facendo una tecnica che è un po' si chiama è come mettere un po' il il capotasto alla chitarra ok quindi un stop closer quindi c'è praticamente è come dividere in due parti no uno strumento lo stai dividendo in due parti usi quella più acuta no è quello il giusto modo quando vai in quella ipercompressione su quando sei andato su no questo qui quando sei andato su quel modo lì è anche giusto ma devi andare un pelino oltre e ci sei quasi andato ma perché non vai abbastanza oltre perché per studiare quella tecnica lì bisogna rinforzare tantissimo la parte medio-bassa quello ti dà l'opportunità di creare quello stop quel blocco hai capito dove posizioni il capotasto in modo da eliminare questa centralità e andare a lavorare ancora di più con più forza senza creare quelli che sono i battimenti di rischio ok cioè è come dirti non riesci a chiudere bene il capotasto hai capito della chitarra quindi è come se tu lo sposti in alto però non riesci a chiuderlo bene perché non c'hai quella forza lì ancora adatta per farlo ma non perché non l'avresti perché anche da come parli si sente che sei nel range giusto ok tuo ma devi sapere che c'è tutto il lavoro tant'è che in mezzo fai fatica hai capito in mezzo vai giù fai fatica a tenerla lì non quello che sentivo e lì è anche un gioco di respirazione perché le note tu le devi mantenere attenzione anche quando sei nelle note alte tenorili ma lì le devi tenere ferme le note ma devi lasciare cadere giù quel decay cosiddetto che è dato da una è come se le corde in quel momento come il muscolo mollasse ok capito quindi non ce la fai per tanto tempo infatti noto proprio questo che tu hai detto rischi ogni tanto sono note che proprio sento che sono un azzardo nel senso dico lo butto a volte vengono che dici minchia perfetto e altre volte in cui dici ok c'è di una ciofeca però senti che proprio è fragile è fragile sì perché quello che infatti ti stavo dicendo attenzione però perché distinto ho detto se un soggetto è interessante perché stai cercando delle cose ok in modo interessante ma attenzione perché le stai cercando senza aver affrontato prima la struttura come dirti guarda che io devo quando cado devo cadere in piedi ok non devo cadere che mi lancio lì mi butto in alto e non so cosa c'è sotto hai capito che voglio dire cioè tecnicamente devi lavorare molto 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 su una ipercinesi cordale capito se è andato sopra hai capito perché se è andato l'hai fatta tra l'altro in originale questa se non sbaglio l'ho fatta un semitolo sopra un semitolo sopra esatto perché lui va su in re capito quindi tu l'hai fatto tu l'hai fatto lui la fa la fa in sol minore giusto quindi cioè lui la fa un semitolo sei andato un semitolo e sei andato a prendere il mi bemolle capito su questo ok per andare a grattarlo quel per andare a grattarlo devi farlo proprio con una posizione di ipercinesi e questa cosa è una cosa che si studia dopo aver trovato prima una stabilità in tutta la zona media non solo bassa media perché è proprio sulla zona media che devi lavorare ma ma buono nel senso buono solo che come dirti tecnicamente devi trovare proprio il modo per sviluppare correttamente tutto perché poi non devi andare a cercare molto il virtuosismo anche se puoi farlo ok cioè puoi farlo il virtuosismo ma dopo che hai capito bene cosa sono le posizioni dello strumento vuoi farmi una domanda tu sì volevo chiederti più che altro io noto che tendo a sentirmi costretto a costringere per fare per esempio le i le e che chiaramente sono più complicate però molto spesso gli insegnanti mi hanno detto cambiala con una e ma mi chiedo a profondità che non ci sia una tecnica per poter cantare una i in pulito e farla venire fuori c'è soddisfacente assolutamente sì certo ma cosa vuol dire cambiala in una e cosa vuol dire in che senso le i se c'è una i tu devi rafforzare la i è chiaro che ci sono tutte tecniche laddove c'è una difficoltà no cioè bisogna affrontarle le difficoltà non schivarle capito c'è cazzo vuol dire non canto cantare una i canto una i perché mi viene fuori un problema di pronuncia sì e poi viene un problema di pronuncia uno cosa fa è come dire perfevere perte me da bere oppure pirfiviri pittimi di birri c'è sembra un gioco hai capito questa roba qui sulle vocali ma questa è anche un'altra cosa siccome fanno molti vocalizzi la 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 però non le fanno sulle altre vocali c'è anche che fanno lo stesso vocalizzo tecnico sulla vocale cioè ma guarda ne trovo tante su queste cose di queste cagate che si dicono in generale però certo che ci sono ogni ad ogni problema c'è sempre una soluzione ovviamente se tu hai uno strumento che non te lo permette se tu fossi un basso in questo momento staremmo andando a cercare dei falsetti inutili questo non è cioè parte addirittura dalla tecnica del falsettone che è una cosa che si studiava negli anni 70 ok che era un falsetto aperto e spinto ma chi non ha fatto quello studio non è in grado di spiegarti come andare lì su capisci qual è il problema cioè si parte da una roba di falsetto da questo non è che è un'altra cosa parti da quello ma da lì e se faccio il grattato a me non succede niente ma sto spingendo cacchio non è che sto capito c'ho una pressione sottoglottica mica da ridere per fare quella roba lì poi devo devo saper aprire nel modo corretto chiudere nel modo devo trovare il giusto equilibrio e come far battere lì perché il grattato è vero che è un attimo hai capito è vero che è un attimo ma quello che sto facendo è non è il falsetto vero hai capito è un'altra roba ancora capito è un mix proprio difficile perché non è risonante è sotto capito è proprio è nella laringe che parte quella roba non è sopra ok capisco benissimo ti ho risposto sì Luca grazie grazie meglio sei forte dai devi studiare cacchio devi studiare ti provo cioè il problema è trovare gente che perché giustamente se trovo un sacco di gente anche qui che viene live che si lamenta che il proprio insegnante dice robe non lo so dove si possono trovare non c'è un sito in cui dici voglio trovare un insegnante che mi indirizzi verso questa cosa che mi possa correggere queste cose specifiche guarda allora ti ripeto io lo so perché l'ho detto all'inizio qua in Italia ci sono troppi insegnanti cioè non puoi cioè purtroppo non c'è un libro ok di questo mentre magari negli Stati Uniti c'è capito potrei dirti il problema sai cos'è che se ti dico eh vuoi vedere il mio sito è sempre questo discorso che sembra che faccia pubblicità a me hai capito io non sono qua per fare pubblicità alla mia scuola io sono qua per aiutare voi hai capito poi se uno vuole venire fa tutto l'iter ma io sono qua per cercare di dare a voi degli aiuti ok e soprattutto andare ad affrontare tecnicamente il discorso in modo corretto comincia intanto a dire hai capito all'insegnante giusto cioè se tu vedi che ti sta spiegando le cose che non ti tornano non ti tornano punto cerca un confronto hai capito e poi muoviti perché non è detto che tu debba trovarlo a casa tua cioè io andavo a studiare a 13.000 km di distanza un problema un motivo ci sarà cazzo hai capito cioè ok va bene fantastico ok ciao Luca grazie mille figurati ciao ciao grazie a te ciao 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 ragazzi questo qua è forte sto ragazzo qua c'è un è difficile trovare quella roba che poi c'è la pasta del rocker hai capito quindi andare a cercare quella cosa a portare Michael Jackson pensa l'ho fatto proprio rocchettaro di brutto come poteva essere interessante spettacolo cioè cambiare la vocale però è bellissimo non riesce a cantare una I e canta una E sì tanto chi se ne frega di parole pinolo come verrebbe tipo il penolo il penolo il penolo cioè ma l'azzo ridere il redere tanto chi se ne frega di quello che stiamo cantando perché sai perché loro dicono così invece di fare I fai no Alessandra S l'abbiamo detto flick flock Alessandra poi comunque stasera è la sera delle donne meno male era ora Alessandra Alessandra Scifoni di dove sei Alessandra? Allora io sono di Quattro Sant'Elena provincia di Cagliari eh di Quattro Sant'Elena ok sei belli se lo conosco sai che io quella zona purtroppo la conosco molto ma molto ma molto bene bello stiamo guardando il tatuaggio è vero o finto? è vero è vero siccome sto facendo una lotta pazzesca nella mia vita ho detto questo è arrivato il momento me l'avevo predetto devo fare questa cosa qua quindi sto cercando disperatamente un tatuattore perché ho una cosa in testa è difficilissimo molto giapponese però va bene ok senti Alessandra raccontami te da quarto allora intanto quanti gradi ci sono lì adesso? non so non lo sai più troppo non lo sai più 40 no forse adesso non così tanti però c'è molto caro raccontami del canto allora c'è una grande passione anche io come la ragazza di prima che viveva sulle montagne sono un insegnante di italiano quindi non c'entra niente il mio lavoro con la musica però ho da sempre avuto questa passione sembra piccolina quindi ho sempre cantato mi sono sempre dedicata al canto anche con gruppi ho suonato anche live alcune volte quindi diciamo che non è che non c'entra perché ogni tanto quando dite questa cosa uno gli viene da dire ma scusse non c'entra la musica è verità di lavoro per sopravvivenza fai l'insegnante però sin da bambina hai avuto questa passione della musica quindi se dovessi mettere sulla bilancia la passione la passione ce l'hai più per la musica o per quello che fai? per la musica non che non abbia passione per per la musica in generale ti ho fatto una domanda che è andata lì hai capito? quindi vuol dire che la tua vera passione è la musica quindi non è che uno dice la musica non c'entra niente è sempre la tua passione allora raccontami quindi sin da piccola hai studiato quindi hai fatto un po' di studio qualcosa? allora ho sempre appreso un po' anche tramite mia sorella perché anche lei ha sempre avuto questa passione quindi essendo più grande ho preso spunto da lei e ho anche appreso da lei per esempio le armonizzazioni e quindi diciamo che ho fatto ho studiato un po' d'autodidatta anche tramite lei e in questi ultimi anni mi sono decisa a prendere seriamente più seriamente lezioni perché ho visto che insomma negli anni un po' sono migliorata però non sono ancora riuscita a correggere certi difetti a migliorare certe cose che voglio migliorare quindi conto che con la tecnica vera e propria riesca a migliorarle quindi c'è bisogno per forza di studiare sì benissimo mi raccomando anche perché poi ogni tanto noi capitiamo a Cagliari capito quando si arriva a Cagliari poi noi pretendiamo giusto a Cagliari sentire oh stai studiando no vai allora cosa mi hai mandato allora ho mandato una canzone tradizionale irlandese perché sono molto appassionata del folk irlandese ma anche del folk in generale bene si intitola The Humors of Whiskey che versione hai portato tu a chi ti sei ispirato per la versione allora un artista che l'artista preferito in questo momento mio è Osier non so se conosci anche a me piace molto 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 particolare quindi l'ho sentita fare da lui la canzone quindi un po' l'ho presa da lui anche se chiaramente non ha la sua qualità vocale però è la sua senti allora beh intanto allora ci sono delle cose che sono molto importanti da capire nel mondo irlandese il folk irlandese la vocalità la vocalità sia irlandese che poi ti ritrovi per qualche motivo un po' particolare ma questo riguarda la storia nella zona del sud degli Stati Uniti ok ci si trova molto quel quel modo ok di lavorare che poi è stata una matrice del country hai capito quindi per certe cose allora la sonorità è basata chiaramente su le melodie che fanno parte di un cambio del suono anche della corna musa ok quindi ci sono molto molto legato a quella cosa e l'Inghilterra nella zona poi veramente verso la Scozia e quindi l'Irlanda però la cosa importante è quando tu tecnicamente hai da studiare due cose uno di non ammorbidire i passaggi nei cambi di note cioè hai fatto anche due o tre mordenti cioè questi passaggi che sono tipici perché è proprio una diteggiatura che si fa sulla corna musa cioè in Sardegna c'è molta comunione da questo punto di vista no? ok con i mammutoni siamo fatti gli scherzi hai anche un accenno al vibrato ma il suono è un po' troppo medioso se andate in un suono un po' troppo mediosa ok per fare questa cosa troppo mediosa attenzione ripeto all'intonazione perché è molto importante quindi c'è il movimento melodico deve essere molto preciso e non so come spiegarti così su due piedi perché è una tecnica molto particolare questa capito una tecnica molto sembra semplice la musica di questa estrazione sembra semplice ma non lo è sembra semplice ma non lo è perché anche se si basano su armonie semplici o sempre le stesse bene o male note è il modo con cui si cantano hai capito quelle note che diventa più difficile ecco perché i cambi repentini della note bisogna stare molto attenti sono studi che si fanno dando quello che normalmente viene detto come quindi c'è canta una H inizialmente tra una nota e l'altra faccio un esempio fammi solo la prima parte a cappella adesso così la prima strofa solo la prima questo salto qui ci sei cantalo ok 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 lì dai un'H in mezzo è difficilissimo dove l'H? nel salto come se dovessi spezzare esatto vedi che lo fai lentissimo è difficile ok pensa che quella cosa deve diventare velocissima e quasi quasi assente all'orecchio delle persone senti una domanda vai fammi una domanda no ti volevo chiedere appunto in realtà mi hai già risposto praticamente perché appunto io vorrei migliorare sull'agilità vocale quindi ok l'agilità vocale su questo genere è una cosa l'agilità vocale in generale è un po' diverso ok c'è sempre la H la H aiuta tantissimo sempre ma bisogna saperla saperla usare ok intanto studia la scala pentatonica e quella che si chiama piramide pentatonica da qualche parte la trovi se non la trovi cercala ok te la spiego quando vedo a Cagliari ok va bene ok grazie niente figurati ciao grazie ciao a tutti ciao ciao saluta saluta quarto greco vuol dire orma bravo perché la Sardegna aveva la forma di un orma e da lì capito il dico della Sardegna bravo bravissimi ma sanno tutto bravo sanno tutto bravissimi e chi c'è con noi Sabino minchia questo è Sabino Cristiano buonasera Sabino ma io ti conosco Sabino ma io ti conosco anch'io ma porca vacca Sabino Cristiano ma pensate oh ragazzi questa è una carambata cioè praticamente non ci vediamo praticamente ci vediamo qua hai capito beh ci siamo visti l'ultima volta a blu no pensa te ma come mai ti sei buttato in questa cosa vuoi morire cioè così sì ok perché ti sei buttato qua in questa cosa Sabino è giusto che massacri anche me no? ha capito bravo 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 Sabino senti come stai intanto bene bene Luca tu anzi saluto intanto scusami Luca devo salutare perché se no mi ha detto che mi sculaccia Rosa Maria Pigio che tra l'altro grazie a queste cose che hai inventato tu siamo diventati amici in tanti sulla chat ah bene sono contento devo salutare a parti devo salutare tante persone ah quindi praticamente ha detto che se tu fossi venuto se fossi stato estratto così praticamente sì sì ma ha detto saluta invece no ti sculaccia ah proprio a mia insaputa bastardi organizzati capito a mia insaputa bravi bravi senti Sabino io conosco un po' tra l'altro la tua voce perché tu noi ci siamo conosciuti perché tu eri stato selezionato tra l'altro proprio da me per un'avventura disgraziata hai capito che abbiamo avuto entrambi e io spero tra l'altro che questa cosa continui questa non questa cosa disgraziata ma questa cosa che poi è stata fatta nei confronti di chi vi ha veramente fatto del male e mi dispiace tantissimo hai ricevuto il tuo o non ancora ricevuto il tuo guarda l'ultimo messaggio del tipo è stato faremo tutto entro settembre quindi l'ennesimo ah ok perfetto no perché dovete sapere che ci sono dei concorsi in giro purtroppo dove chiedono parecchi soldi tante volte in questi concorsi chiamano dei professionisti io quando seppi che c'erano tutti questi soldi in ballo e mi incazzai come una iena da lì diventai il nemico numero uno della manifestazione finché dal nemico numero uno della manifestazione venne fuori che questa manifestazione per qualsiasi qualsiasi tipo una volta c'era la regina d'Inghilterra una volta c'era hai capito le scie cos'era insomma tutti i casini gli aerei che non partivano per la guerra poi il covid poi il terrorismo tutto quanto uno dice addirittura l'interpol esatto l'interpol quindi manca solo l'fbi esatto questo caso è finito poi tra l'altro su striscia e io ho partecipato chiaramente a rendere noto questa cosa perché io penso che al di là di tutto a me non me ne frega niente di tutto lavoro e tu sai che lavoro ci ho fatto anch'io piteri e compagni per fare questa cosa però io non ce la faccio cioè per me è molto più importante nella vita quello che avete perso voi come speranza come speranza no infatti infatti dico come speranza perché al di là della parte economica è che voi cercavate questa opportunità che sembrava anche un'opportunità molto bella molto importante perché portare dei talenti in giro per l'Europa sarebbe stato veramente una figata ci abbiamo creduto pensando che fosse anche noi è vero però quello che ci abbiamo persone ci abbiamo persone non ce ne frega niente a me quello che interessa veramente è il male e il dolore psicologico i sacrifici che avete fatto e la speranza che avete nutrito in questa cosa quindi di questo veramente spero praticamente è che le persone è la persona in particolare che ha fatto questa cosa se ne renda conto ok allora Luca guardiamo il lato positivo ci siamo conosciuti no? questa è una cosa bellissima grazie Sabino questa è una cosa bellissima questo è vero però spero per tutti voi perché tu sai che io ci tengo sai come sono su queste cose quindi faccio una lotta durissima però lo so lo so so che abbiamo avete mostro parecchie cose esatto va bene comunque intanto Sabina senti ma come mai questa cosa ti vuoi suicidare oggi ok ho capito cioè ognuno c'ha il suo allora dimmi un po' ti vuoi suicidare alla grande o ti sei ho mandato qualcosa diciamo così ma tanto con te o piccolo o grande il suicidio è sempre dietro ah ok perfetto ok ho detto senti hai l'orecchio fino quindi troppo hai detto dovrei troppo troppo fino allora senti cosa hai spedito cosa hai mandato ho mandato un brano di Fabio Concato che è un artista che amo tantissimo e il brano si intitola Tornando a casa tu sai che io e Fabio ci conosciamo si lo so lo so ho avuto anche occasione di conoscere di persone abbiamo parlato di te ah Fabio è una bellissima persona eh si molto allora va bene senti lui ha un linguaggio molto gezzistico e molto delicato se io ricordo tu invece molto raffinato esatto se io ricordo tu hai una vocalità un po' più prorompente anche se raffinata hai capito perché ti piacciono molto i melismi sentiamo cosa hai fatto qui dai vediamo un po' dai sentiamo sentiamo vai io mi sono te ritornando a casa come sempre 70 gente intorno a me era qua un po' che ti ti volevo hai capito perché io sono perché io sono andato proprio lì allora tu hai sei un amante del canto melismatico no? e quello che ho detto prima devi stare attento sempre perché quando parli di melisma all'interno invece di un mondo che ha un fraseggio gezzistico ok e delicato come quello di concato devi stare attento perché lì cosa fai hai fatto dei dei virtuosismi ok quindi hai fatto delle note molto importanti molto difficili ma con una forza timbrica inadeguata a questo genere musicale non a Fabio al genere proprio capito quindi di stare molto più delicato come se dovessi fare Michael Franks hai capito cioè capito molto delicato quindi devi stare molto attento lì ti viene da fare un po' ti viene un po' fuori quella cosa quella baronite diciamo così che dico tanto per ridere capito sei stato sempre lì dentro in questa cosa e ti viene fuori molto la baronite qui hai capito e tra l'altro rischi in questo modo di andare a cercare di imitare un po' il suono di concato creando un po' l'imitazione del suono di baroni e io invece vorrei sentire Sabino qui Sabino lo vorrei sentire un po' meno virtuoso con un timbro un po' meno nasale un po' più aperto libero da tutti i preconcetti di dover dimostrare ok quello che voglio dirti per essere più libero perché tu sai anche suonare hai capito quindi c'è comunque sai conosci e analizzi il virtuosismo stai attento perché c'erano molte imprecisioni nell'intonazione sì sì ma lì è dovuto anche lo ascolti in maniera del massimo ecco però è molto impreciso perché attenzione a non vibrare così tanto con quel tipo di vibrato lì devi andare invece di un vibrato più leggero più morbido e quasi spezzato perché lo richiede capito come fare Fabio è molto delicato non è non è questa capito però ti devo dire una cosa Sabino questo te l'avevo già detto però due tre anni fa quando ti senti per la prima volta è un po' il pericolo che si ha quando quando ci si addentra tanto nel canto melismatico nel perdere un po' la matrice di quello che devi dire ad esempio il brano ha delle parole molto belle questo brano di Fabio è molto molto bello sì ecco prova proprio per sforzandoti ti devi sforzare tantissimo devi provare a cantare il brano il più dritto e arioso possibile cercando di capire esattamente dove è necessario vibrare dove no dove è obbligatorio fare il passaggio che fa Fabio e se ne devo mettere qualcuno hai capito in più perché poi sono belli dei mordenti come li fai li fai proprio distinto ci hai studiato un po' ti ripeto c'è da lavorare questo te lo dissi già allora c'è da lavorare tanto sul nasale ok che ti viene distinto e d'aiuto però vai a ricercare a volte meno l'alto e più leggero anche magari nelle zone basse perché quando vai nelle zone più basse di te ci sono dei suoni belli che non andrei non andrei a cercare sempre di andare in alto sempre di andare in alto capito perché a volte l'essenzialità sarebbe l'ora che tu cercassi di entrare un po' dell'essenziale capito che è la cosa eh sì ma proprio mentalmente tutti gli stinti ok vai all'essenziale poi dove c'è da complicare complica anche di più hai capito se vuoi puoi complicare anche di più studiare dei virtuosismi ancora più pesanti però stia attento perché questa nasalità la respirazione è meglio la respirazione è molto meglio ok però attenzione sempre a respirare bene col naso datti tutto il tempo calmati anche tu perché ti viene da mettere dentro calma respira ragiona lì ci va non ci va capito quando hai meccanizzato tutta questa cosa cominci a tirar fuori la parte tua interiore il cuore tuo hai capito ci vuole tira fuori un po' quel gusto che ti piace tanto ascoltare che non è più nel cercare di riprodurre ma nel cercare di trovare te all'interno di quel mondo di gusto ok l'intonazione però stai attento che tante volte la perdi in queste cose quello che ho imparato l'ho cercato l'ho fatto facendo e mi dicevi tu prima cercate di emulare quello che fanno gli altri e quella è stata tra virgolette la mia scuola è stata essenzialmente quella lì però vedi il problema il problema dell'autodidattica è questo nel senso che arriva a un certo punto che se non hai un risultato di un certo tipo devi andare proprio nella didattica reale ok quindi devi andare a confrontarti con l'insegnante che ti può cambiare anche anche un tuo punto di vista che magari è un punto che tu che per te era un punto saldo anche a scardinarlo e a modificarlo o cambiarlo totalmente questo è importante capito? certo adesso sarebbe l'ora che tu studiassi grazie di esserti buttato qua in pasto al leone figurati era d'obbligo grazie a te Luca grazie a tutti saluto tutti qua grazie Sabino ciao ciao buona serata grazie grazie Federico G Federico G ciao Federico Gnani Federico? è un po' complicato il cognome dove sei? di dove sei? di Reggio Emilia di Reggio Emilia è un cognome emiliano o zero? un po' più della Toscana Federico Gnani sarà che conoscevo un ragazzo quando ero ragazzina bellissimo che si chiamava Gnani vedi? ecco adesso gli beh comunque l'è un bel fio anche che schia uè in milanese ti piace così l'è un bel fio anche che schia cioè proprio è proprio sì sì proprio quello proprio il milanese quello un po' ognurante capito? sì sì uè allora uè allora vivere così senti un po' Federico la musica allora io sono nato e cresciuto grazie a mia mamma con Michael Jackson cioè me lo ricordo che l'ho ascoltato a nove anni il CD di Thriller nella in questa macchinina qua e io mi sono innamorato cioè proprio completamente infatti c'ho il Vinergy of the Wall di Michael Jackson là grande e poi off the wall cioè parliamo di ti capiamo è l'altro migliore che abbia mai sentito in realtà ragazzi solo questo intro qua per me pensa che questa roba qui era la pripista in quegli anni lì nelle discoteche quando sentivi quella roba lì con lui che diceva le quattro parole iniziali va bene andiamo grande poi Quincy che chiaramente ha lavorato Quincy Jones nella trasformazione totale di Michael vabbè quindi poi dopo vabbè io sono appassionato anche poi di rap soprattutto tanto rap anche ma poi spazio un po' tutto quindi sia Kendrick Lamar poi passo magari a Stevie Wonder poi passo a Bill Withers a Drake XXXTentacion vado un po' più indietro magari anche Justin Bieber c'è un po' tutto diciamo però sempre con un certo gusto in questo periodo poi un artista in generale nel modo in cui mi voglio formare sono ispirato molto a Emi Schilla Franco Oshan ho pensato dicessi Emi Schilla tipo no 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 tipo che ne so adesso ti stavo prendendo in giro perché ho parlato di rap ok però stai facendo dei nomi che mi fanno capire che stai parlando comunque poi sei orientato verso la vera rap il vero rap hai capito che è sì 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 sono verso più il vero rap che diciamo la scena trap rap di oggi che non mi fa tanto impazzire però bene bene quindi non posso farci nulla assolutamente suoni qualcosa qualche strumento che prendevo lezioni poi ho fatto praticamente tutta autodidatta e poi sto iniziando da quattro mesi ho iniziato da solo sempre a sonare il piano perché ho visto ho visto PJ Morton e avevo detto adesso voglio sonare il piano oh ma no ho preso iniziato a cantare prendendo un corso di Sherry Porter quando avevo 16 anni quindi ho iniziato da solo praticamente ho fatto da autodidatta da solo fino a 19 adesso in questi 9 mesi che ho 20 anni adesso sto studiando con la vocal coach ok perfetto ho fatto questo step diciamo ok senti allora Federico Gnani cosa mi hai mandato da farci sentire io ho mandato Just the Two of Us di Bill Williams inchia c'è quella cadenza lì mica da ridere just the two of us ok sentiamo un po' è un classico questo vai and when I think of you sometimes I want to spend some times with you just the two of us we can make it if we try just the two of us you and I just the two of us building castles in the sky just the two of us you and I allora Fede quello che ti dico è quanti anni hai? io 20 20 allora quello che mi piace è il senso che hai ti dico quello che mi piace e poi ti dico quello che su cui devi per forza lavorare hai un bel groove che ti accompagna interno quindi anche nella chitarra in modo moderno poi hai allargato con la voce just the two of us però l'unica cosa che devi andare a cercare quella che è la vocalità A-R-N-B ok quindi c'è questo modo che hai è molto sciolto molto figo ok è molto confidential che è quello che ti serve per entrare in questo mondo però a Milan si dice te sei tu un disgrazia perché? perché uno che ha questa musicalità qua e non studia è un pazzo hai capito? è un pazzo tu devi studiare perché? perché hai questa roba qui però ti manca il vero linguaggio blues hai allungato lì andava chiuso come vanno chiuse le frasi e non allungate si sente lì che non è più non è più black come modo cioè hai un suono piacevole ti do un consiglio ascolta ok allora ascolta anche se il timbro è più piccolo ma ascolta la musicalità di J.P. Cooper ok J.P. Cooper Cooper e ascoltati anche Jack Ross che lo trovi ah Jack Ross sì lo conosco benissimo Jack Ross e J.P. Cooper sono due team completamente diverse ma hanno un modo che potrebbe aiutarti tanto J.P. Cooper specialmente ok ok J.P. Cooper è tosto eh vatti a ascoltare magari una sua versione di un brano di Lauren Hill che come si chiama X Factor ok sì 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 ok versione J.P. Cooper live lo vedi in una tipo una trasmissione radiofonica molto forte anche lui e chiudo con questo hai anche un bel un bel suono in certi punti ma si sente che manca la struttura dello studio proprio della respirazione della fonazione corretta ok proprio corretta perché eh sei furbo musicalmente sai dove giocare in alcuni punti dove hai delle mancanze è un po' quello che si dice il piaccione musicale hai capito sai dove andare a toccare certe frequenze ok però si sente che manca la struttura di canto anche perché molto probabilmente puoi andare molto più in su di dove sei andato adesso questo non è un brano che ti permette di giostrarti vocalmente un brano chiuso no capito cioè melodicamente sta tutto in un'ottava in pratica no perché mi aspettavo mi aspettavo e visto come stavi suonando e l'idea di cui sei partito mi aspettavo delle soluzioni diverse è un brano che oggi come oggi ok quello che voglio dirti cantare in con la modo R&B e con la conoscenza della vocalità R&B è una figata perché ci puoi fare 1800 cose sopra però così rimani un po' incastrato nella cosa vuoi farmi una domanda? allora diciamo che ne avrei tante tante quindi però non c'è molto tempo faccio quella più importante diciamo come appunto la strada perché io voglio diciamo diventare la mia versione artistica migliore voglio diventare quello che riconosci praticamente che appena lo senti sai che è lui che ha le sue caratteristiche questa cosa qua cioè qual è questa strada appunto da percorrere la parte dello studio che sì so che c'è e appunto e credo che mi ci sto mettendo comunque c'è io ci metto l'impegno sto lì ascolto tanto suono studio canto esercizi anche questa guarda io questa domanda ti rispondo in un modo in cui mi hai fatto mi hai fatto fare un volo di 40 anni e ti spiego perché perché fu la stessa domanda che fecia una persona che mi rispose fuori da questo paese che mi rispose in una maniera molto semplice quando gli chiesi come faccio a essere riconoscibile a essere Luca e lui mi dice basta toglierti la benda cioè perché dicevo qual è la mia strada qual è la way che devo seguire e lui mi ha detto toglierti la benda e ha detto cosa intendi per toglierti la benda tu hai già davanti a te la tua strada il problema è che non ti sei ancora preparato per percorrerla e quella fu l'unica frase che mi diede una sberla in faccia perché tutti noi abbiamo già la nostra unicità lo studio che cos'è non è altro che darti la preparazione giusta esatta perfetta per toglierti la benda e correre verso la tua strada hai capito ti togli quella benda perché tu in questo momento sei bendato perché stai cercando la tua strada senza guardarla capito ma perché perché lì hai dal tuo punto di vista come se avessi mille strade davanti ma diciamo che è un problema anche che riscontro soprattutto non solo ma anche la generazione la tua generazione esatto e vedi non lo so il ragazzino di 16 anni che non lo so è lì magari per esempio ricco oppure lì che sta facendo soldi online tutte queste cose qua che ti bombano la testa ovviamente ti fanno viaggiare così quello lì è proprio una cosa è un problema è una malattia generazionale fortissima ed è molto forviante e tra l'altro stimola ancora di più l'insicurezza dentro di voi sì sì assolutamente perché tu devi studiare ti faccio una domanda io a te tu sei o non sei un artista? io non sei basta se tu sei deciso così tu sai dentro di te che non devi ascoltare un cazzo di nessuno devi studiare e basta tu ti devi preparare perché se tu vuoi cercare il meglio la versione migliore di te è dentro di te ma ti mancano gli strumenti per essere te la migliore versione di te è nella tua vita è in quelle esperienze che farai più studierai più mezzi avrai più cose conoscerai più avrai l'opportunità di essere la parte migliore di te hai capito? nella musica non hai altre alternative non c'è come possiamo definire non c'è un cazzo di tutorial hai capito? no per questo capito? è della cosa sbagliata non seguire più quelle cagate di tiktok cioè seguire io lo guardo tiktok ma non prendo spunto sai cosa faccio ultimamente su tiktok? ogni tanto vado in diretta in piena notte per vedere cioè con chi cacchio mi rapporto e la cosa assurda ragazzi che ci sono dei discorsi che ma manco 11 anni facevamo noi hai capito? ma c'è una paura tra l'altro e tutte c'è questa chiaramente questa difficoltà ad affrontare il mondo e c'è solo una rabbia hai capito? ma la rabbia la capisco ma guardate che prima di questa generazione la rabbia l'hanno vissuta anche il popolo afroamericano cazzo quella è la rabbia vera cioè pensa il razzismo che cosa può aver fatto però al di là di questo quello che voglio dirti è non cercare di prendere la rabbia e di buttarla addosso a qualcuno prendi quella rabbia per andare a farla diventare energia per formarti studia più studia uno come te più avrà per forza la possibilità di essere differente ma per studiare tu intendi fare ad esempio mettere lì con le scale pentatoniche ad esempio i vari referans e no tu quello è una parte dello studio la studio della tecnica è proprio respirazione come approcciarsi al suono quali tipi di sonorità come devo sviluppare gli esercizi devi essere controllato studiare tecnica studiare musica come studiano i grandi i grandi veramente hanno studiato per arrivare a quel livello lì hai capito e si studia tutti i giorni e tutta la vita non finirai mai di studiare ma almeno 4-5 anni di grande formazione vocale te la devi fare te la devi spuppare nel frattempo nel frattempo poi puoi fare tante cose ma non vuol dire niente uno può anche diventare famoso prima di arrivare alla fine degli studi e non è che una volta diventa famoso poi non studiare più chi se ne fotte hai capito perché lì fai la fine di quelli che ti vendono la fufa su TikTok capisci c'è la musica non si smette mai io ho 57 anni e sono qua che tutte le volte che devo imparare qualcosa di nuovo metto lì e cerco di imparare qualcosa di nuovo hai capito la tecnica lo strumento la chitarra il pianoforte cosa pensi di impararlo a suonare dopo due minuti veramente perché su quello che sento il groove ok perfetto hai il groove ma mica basta il groove cioè ti faccio sentire gente che suona e canta che tu cioè dici ok allora sono due le cose o mi metto lì abbasso le orecchie e studio tutti i giorni ti 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 bum 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 finché riesco arrivare non c'è un un quando 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 cioè come maestro Miyagi che ha detto il Karate Kid metti la cera togli la cera perché metti la cera togli la cera perché metti la cera L'unica soluzione è mettersi lì, fare, 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 studiare tutto il linguaggio musicale, perché esiste quello, perché si metterà il vibrato, perché no, perché provo, magari dico qui non potrei metterlo, però provo a metterlo, fa cagare, forse si fa cagare veramente, capisci? Con dei dati, come fai a parlare l'italiano se non lo studi? Come fai a diventare un poeta se non studi bene l'italiano? Poi ci sta il poeta, il pittore naiffa, hai capito? Che è un caso su un miliardo, hai capito? Cioè ci sta, c'è, il ligabue della situazione, non il ligabue cantante, però hai capito? Cioè, voglio dire, ci sono delle situazioni molto particolari, ma sono casi estremi e comunque tecnicamente avevano una tecnica personale, ma ormai siamo nel 2024. Cazzo, se prendi Alciran in quella sua dichiarazione dove parla e dice questo era quando io, cioè dice ma tu hai il talento e sei sempre stato così? No, no, vi faccio sentire, ero una merda, sentite un po', hai capito? E come hai fatto? Studiando. Però se lo dice Alciran, hai capito? Cazzo, ma lì è normale. Grazie mille per questi consigli e queste parole che... Figurati. ...tergono sempre. Meno male! Tu volevi dire qualcosa a sto ragazzo? No, mi piace molto. Ah, ti piace molto? Molto. Hai detto niente? Te volevi dire qualcosa? Buttati, buttati. Come hai detto Chiara l'altra volta, come hai detto fiducia in se stessi. Sì. Fiducia, fiducia ma vera però, vera. Per te. Che significa... Vi parlo per te. Significa, mettiti davvero in gioco. Ok. Perché ci credi tanto, è proprio quello il sintomo. Esatto, tu hai detto sono un artista, bene. Bravissimo. Hai detto sono un artista? Ok. L'artista ha il dovere, il dovere di dare delle cose alle persone, delle emozioni, attraverso l'eccellenza. Hai capito qual è la differenza? L'eccellenza. E l'eccellenza non ti arriva così. Capito? Qualcuno ti scrive bravo, bravo, bravo. Io non ti dirò mai bravo. Capito? Perché? 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 No, lo sapevo. Sì, sì. Perché per me non sei bravo. Potresti esserlo. Potresti diventarlo. Ma così mi fai solo incazzare. Ok. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Ci vediamo. Ci vedremo. Tra un bel po' di anni, se non hai. Ah, va bene. Ok. Va bene. Va bene. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Grazie mille. Grazie a te. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Allora, ragazzi, va bene, siamo arrivati alla fine di questa serata, tre ore, e abbiamo superato le tre ore. La stanchezza si fa presente e forte. Grazie a tutti gli abbonati. Grazie ai sostenitori. Grazie a Francesca, Letty Floyd, Davide. Grazie a Chiara. Grazie a Matteo. Grazie a tutti i partecipanti. Grazie a tutti quanti. Che vi devo dire? Buonanotte. 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 Va bene. Va bene. Va bene. Buonanotte.